Opere Studio di Tenerife mi ha dato la possibilità di debuttare tre anni fa nell'Urolo di Figaro, nelle Nozze di Figaro, ed è stato per me un trampolino di lancio perché da lì mi si è dipanata in avanti la carriera e ho potuto affrontare altri ruoli in altri teatri importanti, non solo in Italia ma anche in Europa. La sua particolarità, a differenza di tutte le altre Opere Studio che ho anche fatto, è quella di trattare i cantanti da professionisti e questo ti dà la possibilità di crescere veramente. Si tratta non solo di studio, non solo di opera ma di famiglia, che è quel nome che a tutti piace dare all'Opera di Tenerife. È come stare in famiglia ed è proprio così e qua in questo viaggio a Rem ci siamo tutti ritrovati in una enorme famiglia di quasi 20 personaggi.